Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa fatemi salutare e ringraziare Niccolò, nuovo abbonato alle mie video lezioni. Il Mondiale Rapid è una giungla, perché ci sono quasi 150 giocatori, ma noi cercheremo però di tenere sotto occhio almeno tutti i favoriti e nel video di oggi c'è proprio uno di loro. Una partita sorprendente giocata al secondo turno tra Luzbeko Vakidov, ed uno dei favoriti per il titolo, il giovane polacco, il 23enne Duda, che ricordiamolo nella classifica Hello Rapid, è il numero 4 al mondo con un impressionante 2801. Partiamo! Vakidov di bianco apre la partita con C4, quindi l'apertura inglese. Duda risponde con E5, cavallo in C3, cavallo in C6, cavallo in F3. Ora, la linea principale è lo sviluppo del cavallo in F6, e quindi si entra nella famosa variante dei 4 cavalli, e invece Duda gioca G6. Rimaniamo quindi nella variante dei 3 cavalli, con il nero che ha aperto il fianchetto. Nel suo famoso libro The Full English Opening, Carsten Hansen critica aspramente questo setup del nero, che secondo lui al gioco corretto lo lascia estremamente passivo e senza controgioco. Vediamo come si evolverà la partita. Allora, il bianco gioca la mossa migliore, vedete questo ritardo di tempo consente al bianco di spingere in D4, si minaccia di vincere un pedone, quindi E per D4 il cavallo ricattura, alfiere in G7 a completare il fianchetto. Ora, questo cavallo rimane due volte sotto attacco, il bianco giustamente lo cambia in C6, attaccando anche la donna. Eccoci al momento teoricamente interessante, perché Hansen nel suo libro fa ricatturare il nero col pedone B, per evitare il cambio donne che apparentemente sembra favorevole al bianco. Infatti questa è proprio la mossa ampiamente più giocata. Invece Duda ha altre idee, invece di riprendere con il pedone B, riprende con il pedone D. Ora si arriva al cambio donne, donna per donna in D8 con scacco, il re ricattura. Alfiera in G5 con scacco è la mossa più giocata, alla quale il nero fa seguire lo sviluppo del cavallo in F6, ma Vakidov gioca un'altra mossa ottima, che è l'occupazione del centro con E4. Alfiera in E6, alfiere in F4, arriva a 5. Mossa 9, questa è la novità di Duda che rende la partita originale. Cosa vuol fare questo pedone? Vuole continuare ad avanzare fino ad attaccare il pedone che sta difendendo l'alfiera in C3. Ora, questa a 5, dicevamo, novità che rende la partita originale sicuramente migliore del cambio alfiere su cavallo, che era stato giocato in precedenza, perché troppo forte, troppo importante questo alfiere nero in fianchetto. Ora, la posizione, al contrario di come pensava Hansen, oppure lui ne giudicava un'altra di posizione, questa posizione è una posizione di grande equilibrio ed estremamente difficile da giocare, quindi questo setup avrebbe sorpreso anche un esperto di apertura. Allora, come continua il bianco? Con Rocco Lungo, che oltretutto dà scacco, il re si porta in C8, alfiere in E2, completa lo sviluppo. Come dicevamo, il nero continua a spingere il pedone A, infatti arriva a 4, re in C2, mossa ottima, cavallo in F6, e questa invece non mi piace, questa mi sembra un'imprecisione molto meglio cavallo in E7, e infatti il bianco gli gioca alfiere in E5, che inchioda il cavallo sull'alfiere sospeso, ma c'è torre in A5, perché altra particolarità di questa spinta del pedone A è che si riesce a sviluppare la torre. Ora, questo alfiere sotto attacco, il bianco spinge in F4. G5 è buona, perché naturalmente non si può catturare, si perde il pezzo, ma guardate l'idea di Duda. Arriva A3, che attacca il pedone, B3 è una delle idee migliori, B4 attacca la torre. Ora, questa torre si sacrificherà sull'alfiere, e lo avrebbe fatto anche se il bianco avesse giocato B3. Vediamo che succede. Torre per l'alfiere in E5, il pedone ricattura, cavallo sotto attacco insieme all'alfiere vincerà il pedone. Fermiamoci un attimo, cosa ha ottenuto Duda dando via la qualità? Ha ottenuto diverse cose. Intanto ha fatto danni al 4 contro 3 di pedoni sull'ala di re, e quindi qui sarà difficile portare avanti un contrattacco. Ha anche aperto, oppure sta per aprire, la diagonale principale che punta al re bianco. Un re bianco, la cui posizione è stata ulteriormente indebolita dalla spinta B4 invece che B3. Allora, andiamo avanti con la partita. Cavallo in B1, arriva C5. Qui non conviene catturare, se no il cavallo ricatturando diventa ancora più forte. E quindi Vakidov gioca B5, idea migliore. Ora il nero cattura in E5 con l'alfiere, re in B3, C6, fantastico Duda. Vedete, il pedone attacca la casa B5, il pedone bianco invece non potrebbe riprendere, non potrà riprendere perché è inchiodato sul re. Allora, intanto il bianco cattura il pedone in A3, il cavallo difende anche il pedone in B5, re in C7. Qui l'idea è chiara, si vuole portare la torre sulla colonna A. Allora, il bianco si deve inventare un controgioco. Cosa si inventa Vakidov? Si inventa H3. Lui cosa vuol fare? Vuole giocare alfiere in G4 e in caso di alfiere per alfiere non gli importa di avere i pedoni doppiati perché si è liberata la torre sulla colonna H. Ma Duda glielo impedisce e gioca H5, quindi a controllare proprio la casa G4 bisogna trovare un'altra stava. torre in H che va in F1. Rifermiamoci un attimo a valutare questa posizione. Guardate che brutto per il bianco. Il bianco ha l'alfiere cattivo, bloccato sullo stesso colore dai suoi stessi pedoni centrali. Chiamiamolo il bue come da titolo. Però, purtroppo, c'ha pure l'asinello, il cavallo sul bordo, che non ha grandi possibilità di sviluppo. Quindi, posizione fortissima del nero. Allora, senza il pericolo di trovarsi con la torre bianca a dominare la colonna H che invece è rimasta chiusa, allora Duda porta la torre, lui, sulla colonna A, torre in A8, torre in F3. Quindi il bianco cerca di raddoppiare le torri, torre in A5. Nuovo attacco sul pedone, perché, quindi, secondo attacco, un solo difensore, ricordiamoci, perché questo è un difensore solo virtuale, inchiodato sul re, allora il bianco schioda il pedone che di nuovo sta difendendo, arriva cavallo in F6. Cavallo in F6 è una mossa fortissima, seppur naturale, perché attacca un pedone che non si può difendere, perché, vedete, se l'alfiere si inserisce, blocca la difesa della torre sul cavallo, quindi si perde un pezzo. Difendere con la torre non serve a niente, perché, a parte il fatto che si può attaccare la torre, c'è anche il discorso della deviazione, perché la torre, ricordiamoci, sta difendendo un pezzo sotto attacco, e quindi, per evitare intromissioni, il bianco gioca a torre in B3. Allora il nero vince il pedone centrale in E4, alfiere in F3. Ma il cavallo torna indietro in D6, un nuovo pedone, due volte sotto attacco, difeso solo dal cavallo, B per C6, il pedone B ricattura, G4, è un contrattacco disperato. Ma qui casca un altro pedone, il cavallo cattura in C4, minaccia di vincere il pezzo, allora il bianco deve cambiare in C4, cavallo per cavallo in C4, l'alfiere ricattura e attacca pure la torre. Qui il nero si riprenderà anche la qualità, perché non si riesce a salvare la torre. Guardate un po' che succede per esempio a giocare torre in E3, che oltretutto attacca l'alfiere, ma qui si dà intanto scacco con la cattura di torre in A2, il re tornerà in B1, l'alfiere sotto attacco, non solo si sposta, ma minaccia la torre, e la torre non ha più case. Torre in E3, non si può catturare ancora, perché l'alfiere sta proteggendo la torre, ma la torre si sposta in B2 con scacco, sorretta dall'altro alfiere, quando il re si sposta, il nero si riprende la qualità, rimane però con tre pedoni di vantaggio. Ritorniamo a noi, e allora la difesa disperata di Vakidov è giocare re in B1, alfiere per torre, il pedone ricattura, torre in A3 attacca il pedone. Allora re in C2, siamo arrivati al nostro quizone. Ora naturalmente si vede che il nero sta vincendo, quindi quando si sta vincendo, come in questo caso, ci sono tante buone continuazioni. Quella però trovata da Duda mi sembra la più bella, la più precisa. Cosa giochereste voi al posto del nero? Mettete pure in pausa, e da voi la parola. Ritorniamo subito alla nostra partita, perché qui c'è un pedone, un elemento, sotto attacco, vicino al re, difeso soltanto dal re. un elemento pure inchiodato su un pezzo sospeso, che sarebbe l'alfiere. E allora, cosa c'è di meglio che attaccarlo con un pedone? Arriva a C4, quindi, guardate, Duda rende il pedone doppiato un pezzo forte, un elemento forte. Allora, torre in B1 a proteggere il pedone, ma qui arriva torre in A2 con scacco, il re costretto a tornare sulla prima traversa, arriva a C3. Il pedone doppiato è diventato un pedone passato avanzato, quindi diventato un elemento fortissimo del contrattacco del nero. Allora, alfieri in E4 a controllare questa casa C2, ma la torre si sposta, si porta in D2, sorretto dal pedone con scacco, re in E1, alfieri in G3 con scacco, il bianco abbandona. Abbandona, andiamo noi a giocare qualche altra mossa, qui unica mossa legale e spostare il re in F1, qui basta giocare C2 e vediamo che l'alfiere si deve sacrificare sul pedone, perché in ogni caso dove si sposta la torre arriva torre in D1 con scacco, che vince la torre piena, a meno che la torre non catturi la torre in D1 e quindi il nero fa donna, perché il bianco non si può rifare nemmeno sull'alfiere, guardate che succede, re in G2, torre per torre, se il re cattura non controlla più G1, la torre si sposta con scacco e addirittura il nero fa raddonna. Vi è piaciuta questa partita? Secondo me è stata una partita stupenda di Duda, che si conferma uno dei nuovi top players della scena mondiale e anche che sta conducendo il torneo, sono riuscito a trovare la classifica aggiornata turno per turno e quindi vi lascio in descrizione sotto il video la classifica aggiornata al secondo turno. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto, se vi è piaciuto non scordate di like, non scordate di iscrivervi al canale e se è possibile ci vediamo oggi pomeriggio con il terzo turno. A presto!